Fra i tanti principi di Danimarca che nel corso degli ultimi anni si sono avvicendati sui palcoscenici triestini, quello di Klemen Janesic è decisamente il più coinvolgente. Lo aiutano certamente la giovane età, vicina a quella del personaggio, l'essere un performer cui non è ignota la danza e, cosa non da poco, una riduzione attenta ed intelligente. L'amleto in scena ancora per tre repliche allo stabile sloveno, diretto da Matias Faric, che riprende la traduzione storica di Ivan Sankar, è uno spettacolo scarno che non si pone problemi a tagliare il testo shakespeariano. Non ci sono ad esempio Rosencrantz e Gilderstein, non c'è il teschio di Yorick, il monologo di Ecuba appare a brandelli in varie parti dello spettacolo. In tal modo concede una sinistra dignità al personaggio di Claudio, raramente così incisivo. E se nella scena cosiddetta degli attori Janesic ha la possibilità di scatenarsi senza tradire il proprio personaggio, il confronto fra Amleto e Claudio immediatamente successivo è una delle invenzioni più mirabili e intense costruite attorno a questi due personaggi. Eccellente l'intero cast, citiamo oltre a Ian Buchar nel ruolo di Claudio, la generosa prova di Sara Gorsche nella parte di Ophelia, che recita con la caviglia fasciata a seguito di un lieve incidente. Una messa in scena essenziale consente poi agli spettatori di riempire i vuoti con la propria immaginazione, ragionando sopra un testo che, come diceva Laurence Olivier, uno che di teatro un po' si intendeva, resta la cosa più bella che mai sia stata scritta.